Ciao a tutti, dunque io volevo approfondire il decalogo che ho creato, il decalogo del maschile sacro punto per punto con delle bravi chicche come avevo promesso. Dunque la prima voce che avevo scritto era quella maschio e bello che è una frase di Claudio Rizè, lo psicologo Jungiano che ha approfondito molto questi temi negli ultimi trent'anni. Questa affermazione gira intorno a quella che lui ha chiamato l'energia fallica. Allora, tanti disturbi di oggi sono dovuti al fatto che gli uomini hanno perso un contatto con questa energia, hanno perso contatto con la loro fallicità, con l'energia fallica. Ricordiamo che in altre culture precedentemente alla nostra il fallo era adorato come un dio, il dio della creazione, della forza e dell'equilibrio e dell'espansione verso gli altri nonché della generosità che è appunto una delle caratteristiche del maschile sano. Ritroviamo rappresentazioni del fallo accanto alla Ioni che era invece il principio femminile, la vulva, in tutte le culture prima della nostra, per esempio ricordiamo nei Celti questi menhir, questi sassi monolitici che si ergono dalla terra al cielo, dando appunto il messaggio del fallo dell'energia maschile come conduttrice tra il piano della terra che è quello femminile, il piano del cielo, la divinità egiziana che l'energia di questo dio che penetra la volta stellare, la volta del cielo. Nella nostra cultura noi abbiamo perso i rituali di iniziazione maschili, questa cosa ha portato grande scompenso nella maschilità, negli uomini, perché fino a un paio di secoli fa l'uomo veniva introdotto alla propria energia maschile da uomini, in particolare dal padre e poi da altre figure maschili, militari, istruttori spirituali, maestri. Cosa che non avviene più oggi, anzi la figura guida si è molto femminilizzata e in particolare Rizè vede questa cosa nella cultura mediterranea, una cultura che ha delle figure femminili molto preponderanti, a partire dal fatto, se noi pensiamo che Romolo e Remo sono stati gallattati da una lupa. Ecco, nell'inconscio collettivo si è registrato nel mondo mediterraneo un po' questa dipendenza dalla madre, ed è cosa nota nel mondo del bacino mediterraneo, si parla di mammoni, di questo cordone umbilicale con la madre che è difficile da spezzare. Quindi era il padre, ed erano figure maschili, gli addetti a distruire il giovane dalla pubertà in poi, ad entrare nel proprio valore maschile. Il proprio valore maschile dal punto di vista istintuale, affettivo, sapere come comportarsi con il femminile e come muoversi nella vita, dal punto di vista etico e dal punto di vista sociale. Manca tanto, ovviamente, se noi raduniamo queste caratteristiche che oggi sono lasciate al caso, all'improvvisazione, ognuno improvvisare per prove d'errori, manca tanto, tant'è che gli psicologi sostengono che questa disgregazione, questa sconnessione dall'energia fallica maschile abbia portato a molte delle patologie nevrotiche di oggi e disturbi maniaco-depressivi. Nel senso che non avendo accesso, non avendo una connessione con l'energia maschile fallica, che ricordiamo è transpersonale, non è collegata al singolo individuo, è un'energia universale a cui qualunque uomo può agganciarsi, come dico sempre io, agganciarsi nel senso può ritrare energia da lì, sostentamento, è la base della tua personalità, della tua identità. Che cosa comportava questa energia, questa connessione? Equilibrio e forza, equilibrio e forza. La sconnessione da questa energia porta invece disequilibrio e questi alti e bassi, appunto che si chiamano maniaco-depressivi in termine psicoanalitico, alti e bassi tra sensazioni, il senso di potenza e invece grandi cadute dalla grazia, no? Grandi cadute, dubbi, paure, insicurezza. Ecco, quindi questo per racchiudere un po' il primo importante punto del decalogo che ho creato. Vediamo se c'è qualche altra chicca che volevo darvi su questo. È la prima volta, ecco, nella storia umana che si verifica questa sconnessione. Il fallo era un simbolo in realtà, no? In questi oggetti che venivano venerati era il simbolo, appunto, di questa identità maschile. E' sempre stato onorato in tutte le culture. Provate a pensare bene a cosa si è ridotto nella nostra e alla gravità di questa cosa, alla perdita a livello inconscio, psicologico che ci ha portato. L'aggettivo fallico oggi è considerato dispregiativo. Il membro maschile è considerato oggetto di scherno, di barzellette, qualche cosa che è stato ridicolizzato e di cui gli stessi uomini si vergognano e provano imbarazzo, anziché riconoscere in questa parte di sé una estensione divina, un collegamento alla propria divinità creatrice, un elemento che è il fondamento della creazione, così come strumento di piacere, cosa che invece in altre culture è stata del tutto mantenuta, non è mai stata resa tabù, no? Come in tante correnti del Medio Oriente e dell'Asia, così come nel Tantra, eccetera. Per cui vi invito fortemente a riflettere su queste considerazioni, su questi punti e anche a ragionare un attimo su quando ci cadete voi, su quando voi pensate di essere portatori di qualcosa che è ridicolo e in realtà deve essere onorato, portatori di qualcosa che è dispregiativo, che è da disprezzare, quando invece è alla base, sarebbe la base di forza d'equilibrio del maschile. Non mi dilungo ulteriormente perché voglio creare delle chicche breve, però mi raccomando estendete quello che ho detto a tanti altri ragionamenti che ci girano intorno, fate caso a come questa cosa sta condizionando la vostra vita, le vostre relazioni, il vostro stesso modo di pensare, va bene? Alla prossima puntata, ciao!